Amichevole questo pomeriggio con una mista giovanile, composta da ragazzi della Juniors e degli allievi, per provare l'undici da schierare nel derby con la Sarnese. Papagni contro la giovane formazione, allenata dall'ex Gianluca Esposito, dovrà fare a meno del difensore Sabatucci. Già in diffida il centrale laziale, domenica scorsa da Versa ha rimediato il quinto cartellino giallo stagionale, che ha fatto scattare la squalifica. Con Marauce ancora in ripresa dopo l'infortunio muscolare patito a fine anno, il tecnico di Bisceie per confermare la difesa 3 ha una sola possibilità, schierare il classe 1996, ma anzi al fianco di Sicignano e Galullo. Soluzione già sperimentata e con buoni risultati contro il Due Torri su un capo di gioco ridotto ad Acquitrinio. Domenica almeno da quel punto di vista però dovrebbe andare meglio. Le previsioni annunciano un po' di pioggia, ma solo per il mattino. Calendario fito, quello che aspetta il girone I di Serie D prima della sosta, con altre tre gare da giocarsi in sette giorni. La Cavese giocherà in casa domenica 28 con la Sarnese e domenica 6 marzo con la Leonfortese. Mercoledì 2 marzo invece gli Aquilotti saranno di scena in Calabria, a Roccella Ionica, gara che si preannuncia densa di emozioni in campo e fuori dal campo. La società calabrese infatti ha già annunciato che prima della sfida, che si giocherà al Ninetto Mascolo, omaggerà con una targa Giuseppe Bisogno, figlio di un tifoso storico della Cavese Pasquale Bisogno, nativo di Cava dei Tirreni ma trasferitosi da anni a Roccella e venuto a mancare qualche anno fa. La Cavese attraverso il proprio sito internet ha già espresso il proprio applauso per l'iniziativa della dirigenza a Maranto.